Buongiorno a tutti, benvenuti alla conferenza di presentazione di Tiago Giallò. Prima di iniziare con le domande, iniziamo da Tiago che voleva dire una cosa. Ok, sono pronto per parlare con voi. Iniziamo da Juventus TV. Ciao Tiago, Andracolella Juventus TV, benvenuto. Io ti chiedo quali sono le tue prime sensazioni dopo questi primi giorni alla Juventus, dove hai avuto modo di conoscere anche la squadra, i compagni, l'allenatore e ti sei anche allenato. Grazie. Sono molto contento, la squadra è una squadra forte, è una squadra di qualità, abbiamo un allenatore molto forte e penso che io puoi imparare tanto con lui. Marco Venditti, signora mia Calcio News, ciao Tiago, ben arrivato qui alla Juventus. e ti chiedo cos'è che ti ha colpito in modo particolare due giorni solamente che stai vedendo, ti stai guardando attorno alla Juventus e l'avrai conosciuto in passato, cos'è che ti ha colpito in modo particolare di questa grande società? Grazie. Io ho arrivato adesso e mi sento molto bene, abbiamo una squadra, come ho detto prima, di qualità e mi piace come la squadra gioca e per me è più facile da imparare e come bisogna giocare qui perché è diverso dal campionato francese e come ho detto prima, sono molto contento di essere qui e darò tutto per la squadra. Ciao, buon pomeriggio, Giovanni Albanese Sport Italia. Sandy, per un lungo periodo sembravi molto più vicino all'Inter, ti chiedo cosa ti ha convinto ad un certo punto a scegliere la Juventus. Io ho sentito che la Juve mi ha dato un'opportunità grande e io sono molto contento di essere qui perché è un club grande, con molta storia e penso che ho fatto bene di fermare con la Juve. Ciao, Giovanni Guardala, Sky Sport. Ti chiedo intanto come stai per capire quando potrai partecipare bene con il gruppo visto che arrivi da un infortunio e poi ti chiedo per come gioca la Juventus in questo 3-5-2 qual è il ruolo in cui ti sentiresti più comodo? Mi sento bene, il mio ginocchio è buono, penso che adesso è una questione di opportunità, io sono pronto, come ho detto prima, darò tutto per la squadra e io posso giocare a sinistra, a mezzo, a destra, per me è uguale e darò tutto per il nostro allenatore e per me è il più importante. Grazie. Ciao, Romeo Agresti, Goal.com. Federico Giunti che ti ha allenato nella primavera del Milan ti ha paragonato a Tomori. Ti chiedo se pensi che possa essere corretto questo paragone e se c'è un giocatore al quale ti ispiri, ovviamente a livello difensivo. Siamo un po' differenti, però io rispetto tutto che lui ha detto. abbiamo molti difensori di qualità, mi piace imparare tanto con Lilian Turan perché io gioco a destra, gioco a sinistra e io gli ero fatto la stessa cosa quando faceva il calcio. Buongiorno, Filippo Cornacchia, la Gazzetta dello Sport. Ti volevo chiedere, l'ultimo portoghese che ha vestito la maglia della Juventus è stato Cristiano Ronaldo. Tu sei cresciuto nello sporting come Cristiano Ronaldo, nello sporting dove c'era anche Leao. Volevo chiederti se prima di firmare per la Juve hai avuto modo di parlare con Ronaldo o Ronaldo ti ha mandato in bocca al lupo per la tua avventura con la Juve. Non ho parlato con lui, però come ho detto prima ho sentito che la Juve voleva comprarmi e per me è il più importante, penso che non bisognava parlare con nessuna persona e per me è molto importante fermare con la squadra come la Juve. Buon pomeriggio Alessandra D'Angiora, Esport. Hai vinto con il Lille e adesso arrivi in una squadra che è in pieno duello scudetto con l'Inter. Quindi ti chiedo come vedi questo duello, come l'hai visto finora da lontano e come lo vedi ora che sei arrivato e magari anche il consiglio che ti senti di dare per chi ha vinto pur non essendo partito quell'anno come i favoriti. Bisogna fare un buon lavoro perché abbiamo un campionato di qualità, vogliamo vincere e quindi bisogna fare tutto perché è un campionato difficile e è importante giocare bene tutte le partite e penso che abbiamo qualità per vincere il scudetto. Antonio Paolino, Radio Bianconera. In prima fila davanti a te, ai coloro i quali della Juventus, del tuo staff, hanno messo gli occhi su di te, li hai convinti. Ci racconti qualche retroscena di questa operazione e soprattutto come pensi di convincere Allegri e sai che in Italia le esigenze difensive sono fondamentali. Io sono tranquillissimo, ho venuto qui perché voglio giocare, io adoro tutto per la squadra e è una questione d'opportunità, io sono tranquillissimo, io so che ho qualità per giocare qui e quindi è una questione d'opportunità. Qualche retroscena? Come è andata l'operazione? È stato bene, ho sentito che la Juve voleva comprarmi, ho parlato della strategia con loro e mi ho sentito bene e quindi mi ho fermato con la Juve. Buongiorno Tiago, benvenuto, Nicola Balice, la stampa è calciomercato.com Che cosa ti è rimasta della prima esperienza in Italia e che cosa hai capito del campionato italiano? In cosa devi cambiare o migliorare per farti trovare subito pronto? Grazie. È una qualità forte, io come difensore devo stare sempre bene, devo lavorare bene e qui abbiamo un campionato più tattico però io sono pronto per giocare, per imparare quindi non sarà un problema. Marina Salvetti, Tutto Sport. Volevo chiederti che cosa ti ha detto UEA quando vi siete sentiti prima che tu arrivassi qua? Ti ha già parlato della Juventus? Che cosa ti ha detto della Juventus? In qualche modo ti ha convinto oppure tu eri già convinto prima di arrivare qua? Sì, ho parlato con lui, lui mi ha chiamato, lui mi ha detto che abbiamo una squadra di qualità però io sapevo, però è venuto qui perché ho sentito che Juve aveva una strategia, ho sentito che una buona squadra per me, quindi io ho fermato con la Juve. Il team UEA è stato importante però non ha cambiato niente. Ciao Tiago, Federico Sala da Zon. Ti chiedo se c'è un aspetto, un avversario, anche un giocatore che ti incuriosisce a affrontare, ora che sei tornato in Italia, mi viene in mente per esempio Ozyman, con cui hai giocato a Lille, è un qualcosa che ti incuriosisce e che non vedi l'ora di affrontare? Io sono pronto per giocare con tutti i calciatori del campionato italiano. Io so che abbiamo un campionato di qualità, però io sono un calciatore di qualità, io sono pronto per giocare verso tutti i calciatori. Buongiorno, sono Filippo Cornacchi, la Gazzetta dello Sport, ti volevo chiedere a Lille tu hai un grande amico che si chiama Leao, quando eri al Milan vi siete incrociati, cioè tu dal Milan sei andato a Lille e lui dal Lille è andato al Milan. Ho visto che ti ha dato già il benvenuto in Italia nelle ultime ore, Leao è più contento o preoccupato di averti in Italia, visto che il Milan e il Juve comunque sono due rivali? Lui è contento per me, perché io conosco Rafa da molto tempo, ho giocato con lui a Portogallo. Lui ha bisogno di fare il suo lavoro, io faccio il mio lavoro e se ho un'opportunità di giocare contro lui, io darò tutto per giocare bene, perché lui è un calciatore di qualità, però io non ho problemi di giocare con nessuno calciatore. Ciao Tiago, Cristiano Corbo, il bianconero. Cosa ti ha chiesto a Lille in queste prime ore alla Juventus? Grazie. Mi ha parlato con lui, lui mi ha dato confianza, lui mi conosce bene, io so come la squadra gioca, però devo imparare un po' di più con lui, abbiamo tempo che stamattina mi ha parlato con lui, mi ha imparato qualcosa di più che non sapevo, perché qui giochiamo un po' differente da Francia. Ciao Tiago, benvenuto. Nicola Gallo, Gruppo Mediapason. Ti chiedo se c'è qualche compagno che è già un punto di riferimento per te nello spogliatoio, se ti ha aiutato di più in questi primi giorni a Torino e ti chiedo se nello spogliatoio hai percepito un certo entusiasmo e magari hai sentito anche quella parola che fra i tifosi incomincia a correre che è scudetto, cioè la voglia davvero di vincere questo campionato che molti non si aspettavano potesse vedere la Juve in corsa. Io ho parlato tanto con Danilo perché parliamo la stessa lingua e lui ha giocato con molte persone che io conosco, anche Alessandro e Danilo come giocammo alla stessa posizione, lui mi ha parlato più per far capire cosa bisogna rifare, però abbiamo una squadra di qualità, una squadra che voglia aiutarmi e mi sento bene. Ti chiedo se c'è un motivo particolare per il quale hai scelto la maglia numero 33. Io a Lille io gioco con il numero 3 e qui abbiamo Bremer che gioca con il numero 3, quindi ho detto che voglio giocare con 33 perché bisogna mettere solo un numero di più che il numero 3. Antonio Polino Radio Bianconera, al volo proprio, pensi di essere convocato, convocabile per sabato o pensi che il tuo esordio, la tua convocazione slitti ancora di qualche giorno o settimana? Io mi sento bene, ho lavorato ieri, ho lavorato con la squadra stamattina, quindi è il nostro allenatore che va a dire se vado con la squadra o no. Io sono tranquillissimo, lavoro bene, quindi ho bisogno di aspettare. Ok, non vedo altre domande, allora chiamo i direttori sul desk per la consuetta foto. Grazie. 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 Grazie